Cari spettatori, buonasera, bentrovati all'appuntamento consueto del venerdì con il sindaco di Novara Alessandro Cannelli. Buonasera. Buonasera a lei. In settimana, martedì, ha partecipato all'Assemblea dei Giovani Industriali di Confindustria, sono emersi dei temi importanti che ovviamente riguardano la nostra città. Sì, il tema affrontato da questa Assemblea è molto importante, direi non a livello cittadino, ma a livello nazionale, a livello europeo, a livello di paesi OX, se abbiamo, perché hanno parlato, si è parlato, si è approfondito con anche esperti del settore demografico, delle discipline demografiche, di inverno demografico, noi sappiamo che c'è un calo della popolazione determinato da un calo fortissimo delle nascite nel nostro paese, più che in altri paesi europei, peraltro, che ha portato già negli ultimi dieci anni a una diminuzione della popolazione italiana di un milione e mezzo di persone e che in prospettiva, da qui ai prossimi vent'anni, porterà a un'ulteriore riduzione della popolazione italiana di quasi 3 milioni di persone. Stiamo parlando di un vero e proprio spopolamento del nostro paese, si parla di invecchiamento della popolazione, ma come giustamente è stato fatto rilevare da un professore dell'università cattolica, più che di invecchiamento della popolazione, de giovanimento della popolazione, ho usato questo termine, per dire che il problema non sta nel fatto che le persone diventino sempre più anziane e meno male, perché vuol dire che si muore più tardi, si riesce a vivere più a lungo. C'è una migliore qualità di vita. Il problema è che non ci sono più giovani. Questo è dovuto al fatto che c'è molta insicurezza comunque per il futuro e c'è anche un cambiamento di mentalità, un cambiamento sociale, ma un'amministrazione che cosa può fare, oltre a rendere migliori e più vivibili le città, a garantire sicurezza, a implementare i servizi? Ma allora è ovvio che è un problema il sistema paese, però a livello territoriale, quindi come città, come ente locale, noi abbiamo lavorato su un programma, un progetto di attrazione degli investimenti che sta dando i suoi risultati, tant'è che a Novara abbiamo osservato che dal 2010 al 2017-2018 c'era una curva discendente molto forte, poi si è arrestata, proprio grazie anche alla politica di insediamenti che abbiamo messo in campo. Insediamenti significa posti di lavoro, quindi più gente che viene a lavorare qua nel nostro territorio, più gente che prende casa a Novara o nell'Interland, più gente quindi che ha la residenza qui e quindi si arresta la dinamica demografica negativa. Poi è scesa ancora nel periodo Covid, ovviamente perché ci sono stati un eccesso di decessi purtroppo rispetto alle nascite, cosa che avviene già sempre, ma lì ancora di più. E' stata cuita. E adesso finalmente, dopo tanti anni, troviamo una curva che ricomincia a salire. Quindi a Novara, da due anni a questa parte, contrariamente tutte le altre città del Piemonte, tantissime città di media dimensione italiane, si è ricominciata a salire come numero di residenti. Sì, solo a Cuneo e a Novara nel Piemonte. Questo è estremamente positivo, non risolve il problema della denatalità, ovviamente, ma sicuramente avere qui più persone che lavorano, che arrivano anche da altri territori, che prendono casa Novara, che fanno famiglia Novara, dà una mano non soltanto al mercato dell'edilizio, al mercato degli appartamenti e quant'altro, al sistema economico in generale, ma dà una prospettiva migliore alla città per il proprio futuro, perché le città che si depopolano, le città che non fanno più giovani, che non attraggono più giovani, che non hanno giovani nel loro tessuto socio-economico, sono città destinate piano piano a morire. Quindi questa reazione che Novara ha avuto è molto positiva, ci fa ben sperare per il futuro, posto che nel complesso il problema rimane estremamente serio per il sistema paese. Lei ha partecipato a inizio settimana anche al ventesimo anniversario, alle celebrazioni per della Novel, azienda che si trova qui a Novara nel quartiere Santa Gabbio. sono emersi altri temi importanti, in questo caso particolarmente rilevante il tema del teleriscaldamento qui nella nostra città. Allora, la Novel è un'azienda che è nata vent'anni fa, comprimono quindi vent'anni, hanno un anniversario importante per loro, ovviamente nasce come impianto di cogenerazione per servire principalmente la fabbrica della radice chimica che è lì vicina. E partner, sì. Ok, la quale è anche partner della società. Delle società. Quindi loro producono con un sistema di cogenerazione, quindi estremamente pulito, riducendo ovviamente le emissioni di CO2 in aria in maniera sostanziale, annullandole sostanzialmente, producono energia e vapore, quindi energia per gli impianti e vapore per il riscaldamento, tutte queste cose qui. Allora, questa azienda che ha ben operato in tutti questi anni produce addirittura un surplus di energia che potrebbe essere in parte venduto alla rete elettrica così come fanno, in parte riutilizzato per la città. Ma ecco perché potrebbe diventare una partner importante all'interno dei progetti di teleriscaldamento che in questo momento la città sta facendo valutare, ormai siamo agli sgoccioli, da un pool di esperti, professori universitari, esperti del settore energetico, che devono valutare le migliori progettualità da parte di coloro i quali vogliono venire ad impiantare a Novara sistemi di teleriscaldamento. Cosa significa teleriscaldamento? che c'è già in altre città italiane, significa che al posto di ogni singola caldaietta che abbiamo nei palazzi, nelle case, di qui di là, le unità immobiliari o i condomini si possono collegare direttamente a un tubo, a una rete, con una caldaiona. Allora, la caldaiona però se è alimentata da calore che deriva da fonti energetiche rinnovabili, non produce la stessa CO2 che producono tutte le caldaie. E quindi questo ha un impatto positivo da un punto di vista ambientale sulla qualità dell'aria della città nel suo insieme, ovviamente soprattutto nei periodi invernali, quando la qualità dell'aria peggiora sensibilmente proprio perché dobbiamo riscaldarci. E nello stesso tempo potrebbe avere, dai calcoli che abbiamo fatto e che stanno facendo, un impatto positivo anche sul costo dell'energia. In più riduce sensibilmente i costi di manutanzione delle caldaie per ogni singola famiglia. Quindi è un progetto che in prospettiva noi vogliamo portare avanti, è molto impattante dal punto di vista della infrastrutturazione. Ecco, l'infrastruttura non esiste, quindi bisognerebbe ex novo crearla. Casino, fare un impianto di teleriscaldamento perché devi spaccare le strade, devi mettere giù i tubi e devi collegarle poi alle unità immobiliari o ai condomini. Quindi va facile ad arrivare dove... Però non è che siamo l'unica città che farebbe una cosa del genere, l'hanno già fatto in tante altre città. Quindi ovviamente stiamo valutando tutti questi aspetti perché in prospettiva sicuramente è un'operazione che potrebbe dare un beneficio sia in termini economici per l'energia, sia in termini ambientali soprattutto per la città. In questo caso varrebbe solo per gli edifici nuovi o potrebbe essere implementata anche in quelli esistenti? Anche in quelli esistenti. Quindi si abbatterebbe notevolmente. Un attimo, però su base volontaristica, non è che obblighiamo i condomini a spendere i soldi. No, anche perché c'è da creare tutta la rete, quindi bisognerebbe arrivare un po' come si è fatto con la fibra. La gran parte del costo comunque ricade sulla società che ovviamente crea l'impianto di teleriscaldamento. E' solo l'aggancio alla rete che verrebbe a costare i condomini, quindi poca roba. Sì, solo l'ultima parte, con l'ultimo miglio. Certo. Si parla di un altro, parliamo di un altro anniversario, sono i 70 anni del villaggio Dalmazia. Il villaggio Dalmazia che 70 anni fa nasceva, c'era stata la posa della prima prietra, gli esuli, che erano stati istriano dalmati, che erano stati inizialmente ospitati nella caserma Passalà, qua mi sembra, nella Perrone, scusami, nella caserma Perrone, c'era stato l'esodo dall'Istria, dalla Dalmazia, dal Friuli, a causa ovviamente delle vessazioni che subivano quelle popolazioni veri e propri eccivi da parte dei partigiani titini alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è stato l'esodo anche a Novara, sono stati inizialmente ospitati alla caserma Perrone. E piano piano nasce il progetto di costruire un quartiere ad hoc per loro. Nel 55, sì. C'è stata la posa della prima pietra, dopodiché è nato il villaggio Dalmazia. Sì, piano piano è cresciuto. Che ha ospitato intere generazioni di esuli, che piano piano si sono integrati nella nostra città, sono diventati a tutti gli effetti cittadini novaresi, hanno contribuito con la loro laboriosità, con il loro senso civico, con la loro capacità e voglia di fare famiglia, di far crescere i figli, allo sviluppo e la crescita della nostra città. E sono integrati perfettamente. Perfettamente, sì. Infatti adesso in quel quartiere non è che vivono soltanto ex esuli o i figli degli esuli. Assolutamente. Anzi, vivono tantissime persone. Quindi è giusto celebrare anche quel momento storico della nostra città che ha avuto un importanza fondamentale, un impatto fondamentale anche sulla nostra società, sulla nostra comunità. E forse è anche un po' da monito a quello che stiamo vedendo invece nei giorni nostri. Quindi a distanza di 70 anni pare che nulla sia cambiato per determinate popolazioni. Diciamo che è stato un bel esempio di immigrazione che si è ben integrata. Sì, qui sì, integrazione completa. Altro argomento è quello della nostra squadra di volley, la Igor, che è stata presentata mercoledì presso il Teatro Coccia. È sempre un bel momento di festa e di attesa per le prime partite, poi le partite di campionato ovviamente. Beh, l'altro ieri c'è stata la presentazione della squadra, una bella presentazione come al solito al Teatro Coccia. La squadra quest'anno è completamente rinnovata. Dicono sia molto forte, lo dice il Presidente, non il Presidente patron, Fabio Leonardi, perché è la Presidente Suorgio, allora è in dubbio che la vittoria dell'oro olimpico alle Olimpiadi, tra l'altro con una cavalcata straordinaria, trionfale, delle ragazze dell'Italvolley, quindi della nazionale di pallavolo, nella quale c'erano dentro due ragazze che arrivavano dal Ligor Volley Novara e più c'era il coallenatore che è Lollo Bernardi, che era allenatore del Novara. È evidente che questa vittoria ha galvanizzato ulteriormente tutto l'ambiente volleistico, palavolistico femminile italiano e ovviamente anche novarese, ma è frutto di un lavoro che ormai arriva da 15 anni. Certo, non è iniziato ieri. E soprattutto nella nostra città è frutto della straordinaria partecipazione e dal straordinario impegno da parte di tanti imprenditori del nostro territorio che hanno costruito questa bellissima realtà, questo modello che non soltanto sta dando risultati sportivi e dando una bella immagine della città nel nostro paese a livello sportivo, ma ha creato anche tutta una rete di associazionismo sportivo giovanile intorno alla Ligor Volley che sta dando risultati straordinari per le famiglie e per le ragazze. Certo. E questo è dare allo sport e a questa attività un impatto sociale notevolissimo per la nostra comunità. Un valore differente. più bella di quest'operazione. Certo. Quindi siamo orgogliosi della Ligor Volley Novara. E in bocca al lupo per il campionato. La ringrazio, l'appuntamento con lei venerdì prossimo. Parleremo di istruzione e di sport con l'assessore Giulia Negri domenica alle 20. Buonasera a tutti. Buonasera anche a tutti voi e appuntamento appunto a domenica sera. Arrivederci.